L'emendamento delle regioni alla legge di stabilità titolato in maniera pomposa quanto ipocrita efficientamento del servizio sanitario in realtà assesta un ulteriore colpo al suo carattere unitario. È la presa di posizione dei sindacati dei dirigenti medici e sanitari, contrari a qualunque ipotesi di devolution del servizio sanitario nazionale. Dopo la balcanizzazione delle competenze professionali affidate a variabili intese locali, oggi la devolution evidenzia l'intersindacale in una nota, tocca un aspetto centrale di ogni sistema sanitario, quali rapporti tra servizio sanitario e università, tra assistenza e formazione dei medici e delle altre professioni sanitarie, delegati a protocolli d'intesa tra le singole regioni e le singole università. Siamo al baratto tra i tagli chiesti dal governo la perdita del carattere vincolato del fondo sanitario regionale che diventa il bancomat per le inefficienze organizzative e gli sprechi delle singole regioni. È una delega legislativa in bianco, addirittura sugli assetti istituzionali di un complesso sistema, che riguarda non solo la formazione, anche quella post laurea oggi nell'occhio del ciclone, ma anche le sue ripercussioni sulla qualità e quantità delle attività assistenziali erogate ai cittadini. Per i sindacati si accentuano le differenze tra le regioni e tra i cittadini, creando un cortocircuito a tutto vantaggio della vanagloria di qualche governatore e del potere universitario. Le organizzazioni sindacali fanno appello ai senatori affinché non si facciano complici di uno scempio che si intende realizzare con un colpo di mano, che, violentando logica e regolamenti parlamentari, pretenderebbe di introdurre provvedimenti ordinamentali in una legge finanziaria. Contro il presente e il futuro di un sistema che solo noi evidentemente ci ostiniamo a volere e chiamare nazionale.